Un posto al sole, anticipazioni all'8 marzo, Manu gelosa, Nico può incontrare un ex fiamma. Nelle puntate Un posto al sole dal 4 all'8 marzo, un incontro inaspettato, ancora sconosciuto, con Nico in Trentino turba molto Manuela. E il piccolo Jimmy Nico è completamente ritroverai in modo casuale persone del suo passato. La tua vacanza in Trentino si trasformerà per sempre. Da una nuova anticipazione ufficiale per la puntata di Un posto al sole, in onda dal 4 all'8 marzo, emerge che questo incontro susciterà la gelosia di Manuela e causerà guai a Jimmy. Questo nuovo dettaglio sembra indicare che la misteriosa figura del passato, scomparsa da diversi anni, sia in realtà una delle ex fidanzate del giovane avvocato Poggi. A chi sarebbe? Trama di Un posto al sole, dal 4 all'8 marzo, Manuela è gelosa di Nico durante una vacanza in Trentino con il figlio e il padre Renato e Raffaele. Nico, Luca Turco, incontra inaspettatamente qualcuno che sconvolge le sue vacanze e provoca un'ondata di gelosia in Manuela, Gina Amarante, che rimprovera Jimmy, Gennaro. Di Simone. Infastidire. Questo importante dettaglio sulla misteriosa figura che tornerà a presto sembra infrangere ogni ipotesi sulle protagoniste storiche. Come la contessa Federica Paiadini e Anna Boschi, e ha già annunciato ufficialmente la biografia di Rossella ciò conferma che non ha nulla a che fare con il ritorno di padre Luciano, interpretato da Fabio. Barasso, è la madre di Michele, Marisa, interpretata da Mitamedici. Pertanto, Nico probabilmente incontrerà una delle sue vecchie amanti. La Domameda è, chi è? Nonostante la giovane età, oggi, avvocato, ebbe una vita sentimentale piuttosto movimentata, il che permette di formulare alcune teorie. Ex amanti di Nico, uno di loro potrebbe essere quello che incontrerà in montagna. La storia d'amore più importante per Nico è quella con Susanna, morta tanti anni fa e non c'è dubbio che la rincontrerà in Trentino. Per quanto riguarda Rossella, la storia tra lei e Nico non è stata particolarmente importante, ma per il resto si tratta chiaramente di un incontro inaspettato con un personaggio assente da anni. È una presenza costante nel cast, ma attualmente è impegnata a Napoli nei preparativi per un matrimonio e nel supportare il suo importante lavoro in ambulanza. È giusto escludere queste due possibilità e analizzare quella possibile, anche se improbabile. Tra loro ci sono i primi amori di Nico, come Azulla, Martina Carletti, e Igiada, Alina Deida. Anche se bisogna tornare indietro di molti anni per ricordarli, non hanno lasciato alcun segno significativo nella vita di Pogge. Un discorso leggermente diverso si può fare per le relazioni amorose avvenute in età più matura, come quelle con Sara Ferreira, Elena Soggi. Queste tre relazioni erano certamente importanti. Benedetta, Elisa della Valentina, e Penny, Ada February. Questa è Beatrice, interpretata da Marina Clearesi. Ma i principali sospettati sono altri. Questa relazione non era particolarmente significativa e c'erano troppe differenze di personalità tra i due. Tuttavia, ha una forte rivalità con Susanna, il che è più comprensibile per i fan poiché è una storia recente, rendendo il suo ritorno una delle storie più probabili. Infine, è doveroso citare colei che sta accanto a Manuela e Susanna sul podio dell'amore più grande di Nico. Anche Valeria Pagnello, Benedetta Valanzano, è rimasta incinta di Nico, ma ha abortito. Anche Valeria Pagnello